Sarà l'Ecol 2000 SRL di Messina ad effettuare i lavori di dragaggio del portocanale della focia del fiume Mazzaro di Mazzara del Vallo. L'impresa se li è aggiudicati per un importo di 836 mila euro. Abbiamo rispettato rigorosamente i tempi tecnici della tabella di marcia e adesso, consumato anche l'ultimo definitivo passaggio, potrà essere messo in sicurezza il corso d'acqua esondato nel novembre dell'anno scorso, con pesanti ripercussioni sul centro abitato della cittadina del Trapanese e quanto ha affermato il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Grazie all'intervento della struttura commissariale diretta da Maurizio Croce, sarà infatti aumentata la profondità dei fondali e contestualmente anche quella delle sezioni di portata del fiume, riducendo in tal modo la velocità dei fenomeni di marropio che provocano una sensibile variazione del livello del mare. Ci saranno, ha detto ancora il governatore, notevoli benefici anche per le condizioni di navigabilità del fiume. L'ingresso, il transito e le manovre di ormeggio delle navi potranno essere finalmente effettuate in condizioni di massima sicurezza. Si tratterà di asportare anzitutto tutti i materiali giacenti sui fondali che, di fatto, ostacolano il deflusso verso il mare delle piene del Mazzaro. La profondità dell'acqua sarà portata a 3 metri, a partire dal ponte e fino al Mercato del Pesce, a 4 metri fino a Piazzale Quinci e a 6 metri per l'intero bacino di Ponente e fino all'imboccatura del porto, per una superficie di circa 180.000 metri quadrati. Grazie. Grazie.